Ti chiederei, ogni anno tu formi centinaia di imprenditori nei tuoi corsi, io sono stato uno di quelli, sono venuto anche io a un corso. La mia domanda è, esiste l'anatomia di un business perfetto? O meglio, quali sono quegli elementi che ti fanno pensare così a pelle quando incontri un imprenditore e questo negozio online funzionerà? Cioè, esistono delle cose che accomunano un business perfetto a occhio, a pelle, ti direi più che altro? Imprenditore, prima e soprattutto, è il mindset imprenditoriale, l'approccio al marketing che ha, perché questo è fondamentale, quindi questo è a capo, a monte. Poi, se parliamo nello specifico del business, che può essere anche rivisto, se c'è appunto anche il mindset imprenditoriale, perché c'è quell'imprenditore che dice, voglio fare questa cosa, e magari determinati consulenti dicono, guarda, per questi motivi non si fa quello che dovresti fare, è rivedere un minimo modello di business, se vuoi. Però, al di là di questo, se dovessimo andare a analizzare il business, sicuramente il posizionamento commerciale, il catalogo, la grandezza, le descrizioni, le foto, come ha raccontato il prodotto. Questo per me è molto, molto importante oggi, perché vendi emozioni sul sito, non vendi, cioè, se vendi un telefono, bene, non ha bisogno di essere raccontato, ma tante altre categorie, sì, hanno bisogno di questo. Guardo il team, se c'è o se c'è la volontà di metterlo, ma soprattutto, e qui ti dico la verità, guardo la catena di distribuzione. Quindi, se è un reseller, un rivenditore, che ha in fondo la catena di distribuzione, è molto, molto complesso, e glielo faccio capire, gli faccio capire che bisogna lavorare molto sul modello di business, e quello è una leva differenziante, perché a parità di prodotto c'è già online. Poi, se già vai a lavorare con un grossista, un distributore, o, possibilmente, con un brand, lì ti cambia il mondo, perché puoi affrontare i canali diversamente, i marketplace non sono un nemico, un competitor, ma sono opportunità di vendita, per esempio, per un brand o un distributore, e in più puoi guidare il marketing, il prezzo, il prodotto e la distribuzione, a un controllo completo su tutto quello che è il ciclo, e allora puoi impostare veramente un business a medio-lungo termine. Ecco, questo è quello che guardo.